perfetto ciao ciao ragazzi ha detto di sì oggi sarà una giornata pazzesca sono in calabria in provincia di cosenza e sto per incontrare quello che chiamano il signore della pesca una leggenda vivente e dove poteva vivere un campione di pesca se non in una splendida località di mare ma partiamo dall'inizio per riuscire ad incontrare questo pescatore misterioso e convincerlo a portarci a pescare con lui io e nick siamo partiti da genova alle 7 e dopo tanti pisolini in volo e uno scalo a roma dove abbiamo caricato il secondo membro della troupe il mitico max siamo atterrati alla mezza terra per prendere una macchina che dopo due ore ci ha portati finalmente a destinazione bel vedere marittimo in realtà la cittadella più antica intorno al castello è situata leggermente più in alto all'incirca a 150 metri sul livello del mare ed è di epoca normanna infatti sul portale in pietra arenaria della chiesa del rosario c'è inciso l'anno 1091 in linea proprio con l'arrivo dei d'alta villa in calabria per mano di roberto d'alta villa detto il guiscardo nel 1047 ma ci sono anche tracce romaniche come la torre d'osservazione a base quadrangolare che per età che ha non se la passa per niente male ragazzi troppo bello voglio andare in mare ci proviamo prova a chiamarlo il momento della verità questo è pronto ciao antonello sono baci del buono di the boat show buongiorno buongiorno ascolta sono venute in calabria perché sto facendo una puntata sulla pesca e sono venuto nel tuo paese a belvedere marittimo per provare a convincerti di portarci in barca con te a pescare bello sul serio ma ci fai venire con te va bene venite vi aspetto allora veniamo subito ci vediamo giù in banchina perfetto ciao ciao ragazzi ha detto di sì oggi sarà una giornata pazzesca e adesso tutto questo mistero va svelato lui è antonello salvi campione di train d'altura personaggio televisivo di programmi di pesca di successo ma soprattutto quello che interessa a noi fondatore dell'antonello salvi fishing academy e di mega charter cioè in pratica lui insegna e porta la gente a pescare delle vere e proprie belve del mare antonello eccoci siamo arrivati permesso a bordo grazie mille allora ce la farai questa volta a far pescare qualcosa anche a me l'importante che stai le mie regole questo qua barca tua tu il comandante va bene andiamo allora io oggi ti ho chiamato perché vorrei riuscire a capire cosa fa un pescatore durante una sessione di allenamento sembra strano però l'allenamento si può dire cercare i posti giusti perché i pesci in base alla temperatura si spostano e bisogna andare a scandagliare non è tanto importante trovare il pesce grande ok ma trovare sicuramente la mancianza vita e l'ecoscandaglio fa la sua parte poi viene tutto il resto tu intanto che ecoscandaglio hai io ho un carmin un 74 16 xsv ne ho messi due per una questione di immediatezza perché su uno c'è tutti i miei punti la cosa importante è un trasduttore esiste di bassa frequenza media ed alta quindi in base alle esigenze del pescatore deve scegliere il trasduttore tu che ti che tipo di trasduttore usi o più di un trasduttore un gt 51 garmin un b265 lh quindi ossia una media bassa e alta frequenza non riesco ad averle tutte che cosa hai trovato in garmin guarda io l'ho scelta per la semplicità entri in un menù deve avere le cose essenziali il game lo zoom e la velocità di scorrimento che deve essere giusta non dobbiamo diciamo andare nel menù sotto il menù sotto il menù ancora comunque è ovvio che le macchine ci aiutano poi entra in gioco che cosa la costanza la dedizione in tutti gli sport quindi è così ma ci sta perché è una cosa bella anche quella perché dallo spirito e la voglia di riandare a mare ma tu quant'ora fai al mare all'anno mediamente parliamo di motore faccio mille mille due mille trecento ore l'anno sono tanto mamma mia facendo più di mille ore l'anno di motore la scelta del motore immagino sia qualcosa di importante ma il motore ci dà la sicurezza la tranquillità io mi sono scelto per il momento almeno attuale non lo cambierei mai allora noi di devo ciò facciamo una cosa in particolare ovvero testiamo le barche lo richiedo se posso prendere il comando adesso e mettermi per provare l'autobarco va bene ragazzi che onore vediamo quando comincia a staccare la scia comincia a staccare siamo a 10 nodi punto 7 stiamo consumando 30 litri ora prima di venire guardate io ho studiato ho visto che il tuo motore ha tre caratteristiche fondamentali di onda una di queste tre funzioni è l'ecomo sul conteggiri si cambia di colore finché è verde diciamo siamo consumando poco diciamo che dai 3.500 ai 4.000 come passi 4.000 va in azione ok in questo range di giri ma che vada a torciera lenta torciera leggermente più veloce cerca di smagrire quella che è la miscela tra la benzina e l'aria e cerca di mettere più aria nella carburazione piuttosto che benzina mentre invece se io vado ad accelerare che entra in gioco e il boot è che uno sviluppo una cosa sviluppata da onda che serve per migliorare l'efficienza variabile della combustione di un motor a scopo superato un certo numero di giri l'albero a cammi scatta si sposta e va a modificare quella che è l'alzata e la passatura delle valvole di iniezione a controllo elettronico e poi c'è l'azione del blast che è diciamo un po quello che potrebbe essere considerata la turbina che elettronicamente va a migliorare l'iniezione del carburante e quindi dà proprio un boost pazzesco la velocità massima che abbiamo toccato è 35 nodi punto 5 beh non male direi eh la carrella un po sporca e dovrebbe fare 39 nodi e oggi siamo anche quattro persone a bordo abbiamo caricato tutta la barca a tappo lo stiamo consumando all'incirca sui 75 litri per ora che tipo di barca è questa su cui siamo e soprattutto tu che tipo di barca vuoi per andare a pescare la prima cosa deve essere una barca da pesca ma allo stesso tempo per me la cosa essenziale è anche la famiglia quindi ho scelto questa barca che ha una carena di 19 gradi pesa 2.500 kg una barca diciamo intorno agli 8 metri molto stabile questa si chiama antonello salvi lì vediamo la targa il cantiere l'ha fatta per te se game l'ha fatta per te penso che è un cantiere unico perché dà la possibilità di personalizzare la propria imbarcazione io ho voluto due vasche del vivo ok mentre che non so se qualcuno vuole il lavandino vuole la cucinina vuole le cose lui dà la possibilità di modificare la barca organizzata io ho due vasche del pescato per esempio e dire che a te servo a me servo sentite la barca non va a rimbalzare sull'onda anche perché è una barca abbastanza pesante che è una cosa molto positiva a mio parere il peso per mare ci vuole il peso per mare ci vuole molte persone dicono la barca in carbonio leggerissima vado a bomba sì però poi fai la fine del sassolino quando lo tiri sul lago che fa pam 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 mentre invece il peso serve aiuta tantissimo lo scafo ad entrare nell'onda e contrastare la massa d'acqua enorme che va a spostare adesso però bisogna andare a fare il tuo lavoro proviamo andiamo dai allora diminuito la velocità e andiamo alla ricerca di che tipo di prendiamo se riusciamo a prendere un dendice una cernia può capitare una ricciola ma pescheremo molto corto come terminale quindi determinati pesci vanno ad escludersi per pescare questi tipi di pesci abbiamo delle esche particolari abbiamo i calamari a destra le seppie a sinistra ma la cosa interessante è proprio questa perché in questa imbarcazione esiste la domotica perché tutto personalizzabile anche adesso queste sono le pombe la vasca il vivo ho due pombe per ogni vasca quindi non si surriscaldano le pombe ma la cosa più importante si brucia una pompa perché può succedere non muore l'azione esatto non muore tutto il vivo è tutta una cosa fantastica prima era molto scettico però devo essere sincero e adesso non ritornerei mai più indietro adesso possiamo cominciare ad andare a cercare il nostro spot e buttare giù andiamo le prima andiamo adesso spento motore endotermico si mette giù l'elettrico si si ok ti aspetto qua ok siamo arrivati una cannetta da sglopicci tu dirai da traina da traina vai alla sglopicci andando prendiamo un pesce alla canna ci provo io vediamo vediamo e ti voglio far divertire con cannette più leggere e quindi usiamo queste canne guarda semplicemente un piombo ovviamente in base alla profondità un terminale come vedi stranamente molto vicino al piombo adesso inneschiamo sì questa è la cosa diciamo è molto importante perché vanno coperti gli ami lo distraiamo eccolo qua tranquillamente lui non muore qua e poi andiamo sotto proprio dalla la cosa importante è stendere il filo certo adesso lo mettiamo nell'acqua baci eccolo ragazzi dai dai che è partita ma che situazione allora raccontami tutto quello che devo fare vai sono qua piano piano pompa il pesce ma ragazzi tira di brutto dai 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 ragazzi che emozioni bravo grande ma io mi aspettavo credimi che ora si impapina l'emozione quello invece ragazzi allora io mi sono sparato ore e ore e ore davanti a youtube a seguire i video di antonio lo salvi vai bravo avete sentito cosa ha detto vai non ti fermare mai fermarti vai ecco la vai mai fermarti guarda che roba ragazzi porca miseria guarda dobbiamo essere veloci ok perché ci tenevo a prendere un bel pesce facciamo una foto veloce e lo proviamo a rilasciare ok fantastico vieni qua baci sei stato bravissimo tu sei stato bravo perché sei riuscito guardate che best sei riuscito a far pescare anche me ce l'abbiamo fatta ragazzi dai ora diamo la libertà la libertà a questo meraviglioso bestione ci siamo grande grande ragazzi grande grande antonello salvi questo è bocciò ci vediamo alla prossima ciao 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 Grazie.